Cari colleghi, cari colleghe, vi aspetto sabato 28 settembre a Solare per parlare di ergonomia ed economia delle procedure cliniche e di sterilizzazione. Vi aspetto chiaramente con tutto il vostro team perché parleremo dei flussi di strumenti che dalla sterilizzazione andranno alla poltrona e dalla poltrona ritornano in sterilizzazione. Parleremo dei flussi di strumenti che devono essere tracciati all'interno del percorso di ciclo di riutilizzo, quindi di sterilità dello strumento, ma parleremo anche di come disporre il nostro strumentario alla poltrona in modo da ottenere cure sicure con un'ottimizzazione della economia e della ergonomia del lavoro. Vi aspetto con il vostro team anche perché partecipare ad una giornata di formazione con il team è certamente il modo più proficuo per creare entusiasmo e voglia di migliorarci nei nostri studi. Vi aspetto sabato 28 settembre a Solare.